Mercoledì 3 giugno i carabinieri della stazione di Alghero hanno proceduto all'arresto di Luigi Solinas, 49enne pregiudicato algherese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Spoleto. L'uomo che si trovava in regime di arresti domiciliari nella propria abitazione è stato condannato a due anni di reclusione per un furto commesso nel febbraio del 2008 a Trevi. I militari dell'arma, dopo aver notificato il provvedimento al soggetto, lo hanno tradotto presso la casa di reclusione di Alghero.